All'inizio del secolo il new metal era sulla cresta dell'onda. Linkin Park, Limp Bizkit, Korn vendevano milioni di dischi. Un sound duro arrabbiato con delle connotazioni rap che avevano reso il rock mainstream per tutti ai massimi storici. L'avvento degli Evanescence però ha dato una svolta al format. All'inizio dei risi venivano catalogati come i Linkin Park con una ragazza, ma ben presto il loro sound, la loro particolarità, che dava toni gotici orchestrali e un punto di vista femminile a completare il tutto, gli ha resi un vero e proprio fenomeno globale. Oggi altro tuffo nel passato, gli Evanescence, sigla! Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Dunque oggi, come dicevo dall'intro, altro tuffino nel passato, altro tuffino nel passato, scusate, perché oggi parliamo degli Evanescence, che probabilmente io non mi continuerò a chiamare Evanescence perché pensavo a 13 anni si chiamassero così, invece poi ho scoperto che l'accento era più in là, Evanescence. Quindi potrei sbagliarmi durante il corso di questo video, non mi prendete a parolacce. Visto il successo del video su Avril Lavigne ho visto che siete tutti abbastanza nostalgici, devo dire, quindi ho detto perché non portare anche gli Evanescence, altro fenomeno, di quegli anni che a molte persone, me personalmente, ha poi avvicinato in quella che è stata la mia spirale del metal, perché sono partita da loro e poi sono andata avanti per anni, fino a che poi ne sono uscita, sono passata a rock e adesso mi piacciono tutti i generi, alleluia. Qua basta che è una canzone bella, mi piace, non sono più vincolata a nessun genere. Ci ho messo buoni almeno 25 anni a capire questa cosa, ma ce l'abbiamo fatta. Bene, dunque, prima di cominciare, di addentrarci nella storia degli Evanescence, che è veramente molto interessante, io sinceramente non sapevo niente, perché ero una di quelle fan che ascoltava la musica fine, frega niente, della band, della storia, eccetera. Poi all'epoca, sicuramente, sto dicendo una cosa anzianissima, ma non c'erano i social, internet era quello che era, quindi non è che, insomma, reperire poi tutte queste informazioni era così facile come ad oggi. Quindi, con questa scusa di questo viaggio, di questa macchina del tempo, ripassiamo anche le storie e le vicende di quelli che erano i nostri idoli dell'epoca. Prima di cominciare, però, salutiamo lo sponsor del video di oggi. Un mio proposito per l'anno nuovo è quello di tornare ad allenarmi, proposito che è stato ampiamente soddisfatto non solo dalla forza di volontà, ma anche grazie a BuddyFit. BuddyFit è una vera e propria palestra online. Al suo interno si possono trovare centinaia di allenamenti adatti ad ogni esigenza, come lezioni di pilates e yoga, ma anche una sezione interamente dedicata alla meditazione e alla nutrizione. Quando ti inspiro, cosa sento a livello dell'addome? È un'app veramente completa che si occupa di wellness a 360 gradi. La cosa che mi è piaciuta di più di quest'app è sicuramente la versatilità. Si adatta a tutti i nostri impegni quotidiani. Ci sono classi che possono essere eseguite in live, utile per chi come me ha bisogno di un orario o di una scadenza per cominciare. E ci sono anche poi le lezioni in replay per chi vuole incastrare liberamente l'allenamento tra gli impegni di tutti i giorni, con trainer espertissimi che guidano ogni esercizio. Io l'ho provata e mi è piaciuta tantissimo. Mi diverto durante le lezioni, il che mi spinge anche a continuarle. Inoltre l'esercizio fisico aiuta la concentrazione e ci fa sentire bene, ci fa stare bene, ci fa stare contenti. Quindi che cosa aspettate? Vi lascio qui sotto in descrizione il link per Buddy Fit. Torniamo tutti in formissima, tutti felici. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Bene, ora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. La band è stata fondata al Little Rock in Arkansas, o Arkansas credo che si dica in americano. Arkansas. In Arkansas, negli Stati Uniti. Nel 1995 da Emily, cantante pianista e unico membro rimasto dall'inizio ad oggi e dall'ex chitarrista della band Ben Moody, rimasto nella band fino al 2003. Pensate che Emily all'epoca aveva solo 14 anni quando decidero di fondare la band, però lei era già, nonostante la tenera età, era già una musicista più che formata, perché suo padre faceva il DJ radiofonico, quindi lei è cresciuta sempre in un contesto piuttosto musicale, sempre in mezzo alla musica. A nove anni ha iniziato a suonare il piano e a studiare la musica classica come Bach, Mozart. Quindi lei poi ad un certo punto, chiaramente, nella sua vita si è avvicinata a un altro tipo di genere un po' più underground, come potevano essere gli Smashing Pumpkins, i Soundgarden, Bjork, Tori Amos. Quindi lei a un certo punto ha detto, perché non unire la mia formazione classica con il genere che mi piace? Vediamo che cosa ne esce. Quindi lei aveva già in mente questa cosa, poi durante un campo estivo, ho letto che era un campo estivo cristiano, ma non ne sono sicura perché un po' la chiamano la leggenda, comunque secondo la leggenda lei era in questo campo estivo che suonava il pianoforte con questa canzone scritta da lei, si avvicina a Ben Moody, rimane incantato e dice ok, fondiamo insieme questa band e portiamo avanti questo progetto. Quanto ci sia di vero e quanto sia romanzato non lo sapremo mai. Comunque Emily è originaria della California, però siccome il padre per lavoro si spostava sempre, costringeva diciamo la famiglia a seguirlo, quindi lei per tutta l'età, insomma di quando era bambina, fino alla pubertà ha viaggiato un po', si è spostata, il che non le ha permesso di sviluppare grandi amicizie. Quindi lei era diventata una bambina piuttosto introversa, la musica era la sua unica scappatoia. Pensate che, ho letto, che lei aveva studiato pianoforte per dieci anni, ma la sua prima canzone l'ha scritta a undici anni e si intitolava Eternity of Remorse, che aveva dei tratti molto emo e molto gotici. Infatti il sogno di Emily non era quello di fare la musicista, a livello insomma di fondare una band eccetera, lei voleva fare la compositrice cinematografica, infatti anche alle superiori studierà questo indirizzo, cioè lei voleva scrivere delle colonne sonore per i film. Comunque poi appunto arriva questo Ben Moody, per come sia andata la storia o no, comunque decidono di fondare la band appunto chiamati gli Evanescence e iniziano a comporre qualche canzone, iniziano a suonare nei locali, in piccoli bar, in locali piccolini, anche ad esempio in eventi organizzati dalle chiese locali o nei bar open mic dove appunto tu salivi sul palco e potevi suonare quello che volevi. E nel 1998 pubblicano il primo singolo Understanding con una piccola casa discografica indipendente chiamata Big Wig Enterprise. Questo singolo ha fatto poi parte del CD che è uscito successivamente, Evanescence EP, e effettivamente iniziano ad avere un discreto successo a livello locale, cioè si esibiscono ma iniziano ad avere un pubblico di affezionati, di fan, il che li porta poi, con questa casa discografica piccolina indipendente, a produrre il loro secondo CD chiamato Sound Asleep, che era più che altro un mix tra un album e una demo, cioè era quasi più che altro una bozza di quello che avevano intenzione di fare come progetto di Evanescence, ed io mi continuo a sbagliare, di Evanescence, cioè facciamo questo perché è come se fosse un ibrido tra quello che siamo adesso ma quello che vorremmo essere in un progetto futuro. Quindi è un album un po' particolare, io personalmente non l'ho sentito, però ho sentito l'intervista, un'intervista di Emily che trovate su YouTube, che vi lascio anche sotto in descrizione se volete, in cui lei dice mi fa piacere che ai fan a Caniti piaccia anche questo album a me fa cagare, cioè dice proprio così perché ero giovane, eravamo inesperti, questo album per me è terrificante, però vedo che ai fan piace lo stesso. Comunque con questo successo locale loro attirano l'interesse di una casa discografica però più grande, cioè la Wind Up Records, che è la stessa che aveva portato alla fama band come i Creed, quindi diciamo era una casa discografica sicuramente con più possibilità economiche per formarli e commercializzarli e dare vita così al progetto degli Evanescence. Emily all'epoca stava studiando, come vi dicevo prima, per diventare compositrice cinematografica, ma a un certo punto quando chiaramente arriva quest'opportunità l'intera band fa le valigie, lascia casa dei genitori e si trasferiscono tutti in California, a Los Angeles, per registrare il loro primo album. Dunque, il progetto Evanescence non è nato immediatamente, cioè non è che loro hanno firmato e hanno fatto un cd e li hanno lanciati. Sono stati formati per due anni. Pensate, è curiosa questa cosa, perché la casa discografica ha detto ok, la base c'è, però dobbiamo cercare di rendervi più vendibili alle grandi masse, perché chiaramente la casa discografica non voleva un qualcosa di nicchia come erano attualmente loro, voleva cercare di mantenere quello che era il loro stile, base, però cercare di renderlo più mainstream, più commerciale, un po' come una sorta di Avril Lavigne, per farvi intendere la situazione, no? Quindi che cosa succede? Che loro vengono formati per due anni, gli vengono affidati dei coach, dei tutor, persino Emilia ha, diciamo, fatto una scuola di recitazione con un insegnante di recitazione in cui si esercitava a stare sul palco, cioè racconta sempre in questa intervista che lei stava senza microfono, faceva finta di cantare davanti all'insegnante e l'insegnante gli diceva esattamente dove doveva guardare, quando mantenere il contatto visivo, come muoversi in determinati modi, quindi il fatto è curioso perché è chiaro che tutti i cantanti, lo diciamo sempre in tutti i video, vengono venduti, cioè vengono lanciati già pronti dalla casa discografica e quindi limati in tutto e per tutto, però qui ti fa proprio capire quanto ci sia l'attenzione al dettaglio, cioè il fatto che a lei sia stato insegnato anche come cantare e stare sul palco. Ma non è questa la cosa più interessante, ci arriviamo dopo perché a un certo punto, passati questi due anni, loro erano pronti, avevano scritto diverse canzoni che sono state presentate appunto al produttore definitivo della casa discografica che poi li avrebbe lanciati e il singolo di partenza sarebbe stato Bring Me To Life e qui c'è la cosa interessante perché se la band non avessi avuto già chiaro quello che era il suo obiettivo, probabilmente ad oggi avremmo sentito gli Evanescence con un sound non dico completamente differente ma quasi e probabilmente avrebbero avuto tutt'altro percorso perché qui succede una cosa fondamentale. Partiamo dal principio quindi torniamo al punto in cui l'etichetta sono passati due anni l'etichetta dice ok siete pronti per debuttare fatemi sentire che cosa avete registrato hanno mostrato loro insomma al produttore diciamo che si incaricava della loro commercializzazione che cosa avevano il produttore e la casa discografica a un certo punto sono rimasti un po' incerti sul tipo di genere che facevano perché loro facevano un genere sì nu metal come era esploso in quegli anni ma con il fatto che c'era la voce di Emily molto femminile molto lirica era più quasi si spostava quasi sul got metal sull'epic metal che quelli erano dei generi che già esistevano però erano dei generi di nicchia confermo perché io sono andata al concerto degli epica quando avevo 16 anni se eravamo 200 persone era una prova quindi confermo che era veramente di nicchia e la casa discografica aveva investito tantissimo nella band quindi automaticamente voleva un ritorno economico molto grande quindi volevano commercializzarli e renderli talmente mainstream da fare dei grandi numeri nonostante il genere non fosse quello del pop per intenderci quindi a un certo punto l'etichetta dice loro di inserire una voce maschile dice se volete essere credibili e vendibili questo lo ha raccontato tutto Emily se dovete essere credibili o vendibili dovete aggiungere una voce maschile in contrasto con quella di Emily perché solo con una voce femminile non sarete mai credibili in questo settore in questo tipo di genere perché comunque come vi dicevo loro puntavano un po' sul new metal un pochino rivisitato un po' più mainstream però all'epoca appunto c'erano gruppi come Linkin Park e tanti altri che avevano queste voci maschili potenti un genere molto arrabbiato un genere che lo sentivi e ti veniva voglia di sfondare una macchina per esempio quindi lei invece dava una connotazione un po' più delicata come l'hanno definita in molti esperti della musica che mi è piaciuto questo termine un'altra prospettiva un po' femminile e quindi secondo l'etichetta discografica non sarebbero risultati credibili per la moda di allora non che loro non fossero bravi ma per come era il trend dell'epoca loro erano troppo diversi per conformarsi ma secondo l'etichetta non erano abbastanza diversi non erano abbastanza particolari da ottenere credibilità quindi l'etichetta gli dice dovete metterci una voce maschile insieme a Emily se no non se ne fa niente e qui vi dico che succede la svolta perché loro rifiutano cioè loro dicono no no gli emanessants sono così cioè Emily che canta noi che suoniamo non vogliamo altre voci non vogliamo sapere niente se non vi sta bene ciao se ne sono tornati in Arkansas in Arkansas sono tornati in Arkansas e se ne sono andati hanno fatto le valigie e sono tornati hanno abbandonato il progetto quindi avrebbero dovuto ricominciare da capo cercare un'altra etichetta discografica pur di non vendersi a tal punto per questo vi dico loro avevano un progetto già chiaro che cosa succede che dopo qualche settimana la casa discografica è tornata da loro strisciando e gli ha detto ha detto loro sentite abbiamo investito entrambi due anni su di voi cioè noi su di voi e voi su di voi tramite noi quindi cerchiamo di trovare un compromesso non mandiamo all'aria tutto questo tempo abbiamo un'opportunità per voi disse loro la casa discografica dicendo potete fare da colonna sonora al film di Daredevil del 2003 però per poter fare da colonna sonora serve solo per questo caso una voce maschile rap perché coloro che si occupano della commercializzazione del film eccetera vogliono che ci sia un pezzo rap non chiedete perché ma ci deve stare una voce maschile che fa rap nonostante gli Evanescence non fossero d'accordo con questa cosa hanno deciso di trovare un compromesso in cambio hanno chiesto chiaramente meno ingerenza da parte della casa discografica per poi le canzoni future hanno detto ok qui ci mettiamo prendiamo una collaborazione facciamo una collaborazione per Bring Me To Life ci aggiungiamo il pezzo rap però poi dopo ci lasciate fare come vogliamo noi e quindi alla fine si sono accordati ed ecco qui che sono nati gli Evanescence con Bring Me To Life la parte della controvoce diciamo del ritornello di Emily non esisteva nella canzone originale l'hanno introdotta proprio per far sì che potessero accontentare i produttori del film di Daredevil e per quella parte semi rap insomma della canzone chiamano in occasione Paul McCoy che era il frontman del gruppo i Twelve Stones ovviamente il loro debutto con questa canzone fu un successo pensate che Fallen vendette oltre 2 milioni e mezzo di copie in soli 7 mesi e raggiunse il numero 3 nella classifica Billboard e vinsero un Grammy come biglior band esordiente del 2003 ma questo successo portò delle pressioni alla band sia a livello di fama perché comunque come sapete tutto questo tutto questo esploit che hanno fatto appena hanno deciso di lanciarsi nel mercato su grande scala tramite un'etichetta discografica li ha un po' destabilizzati Emily lì all'epoca racconta che aveva anche dei problemi in famiglia perché suo fratello si era ammalato soffriva di epilessia lei quindi era sempre fuori per appunto insomma per promuovere l'album e le sue canzoni in più la band era stata presa un po' dal peso delle aspettative era stata schiacciata dal peso delle aspettative questo perché per alcuni motivi che adesso vediamo però in sostanza lei racconta in questa intervista che si è resa conto di come ha imparato facilmente a dire ai giornali che andava tutto bene che erano contentissimi del loro successo perché era come se il successo non che gli fosse stato regalato però siccome gli era capitato e a molti non capita allora loro dovevano essere contenti punto quindi lei passava giornate interviste e dire si stiamo benissimo siamo contentissimi non ci crediamo eccetera quando in realtà la band non era proprio al massimo pensata infatti che durante il loro primo tour promozionale di Fallen il chitarrista Ben Moody che è stato anche il fondatore della band li ha abbandonati quindi insomma era una situazione un po' instabile perché vi dico che è partita in maniera instabile proprio per il fatto che loro avevano questo progetto degli Evanescence in questo determinato modo e poi hanno dovuto aggiungere la voce rap a Bring Me To Life perché come dicevo nella intro quando è uscita Bring Me To Life praticamente loro venivano chiamati Linkin Park però con una ragazza perché sostanzialmente era la classica canzone per me per me bellissima vi dico la verità cioè bellissima io sono innamorata ancora ad oggi di questa canzone però non era quello che volevano loro quindi loro sono hanno fatto la loro canzone di debutto come una band nu metal uguale identica a My Linkin Park quindi avevano paura che siccome poi tutte che questa è stata una concessione che loro avevano fatto in accordo con la casa discografica avevano paura che una volta uscite poi le successive canzoni deludessero le aspettative dei fan che li avevano amati cioè è stato quello il problema e hanno vissuto prima diciamo della pubblicazione poi dell'album avevano vissuto insomma una paura pensando che magari avrebbero deluso i fan e che quindi sarebbero stati veramente una meteora volante e che poi in realtà il loro genere non piacesse cosa è sbagliata erano paure inutili perché ovviamente come ho detto prima Fallen ha fatto delle vendite incredibili due milioni e mezzo di vendite nei primi sette mesi hanno vinto i Grammy venivano chiamati ovunque hanno fatto un successo incredibile quindi in realtà il loro genere è piaciuto ancora di più di quello portato con Bring Me To Life di come si erano presentati e infatti dentro a Fallen ci sono canzoni tipo Going Under My Immortal che vabbè My Immortal My Immortal è tipo non lo so una delle canzoni più belle che esistano e non mi dite che non è vero scrivetemi sotto nei commenti sia lì c'è vero hai ragione e applauso per Emily e gli Evan Essence per aver scritto una canzone del genere sia quella con la band sia quella solo orchestrale e non si discute comunque come abbiamo fatto anche con il oggi sono un po' così un po' esaltata sarà questo ritorno nel passato perdonatemi se sembro eccentrica alcune volte ora cercherò di riprendere un po' di compostezza dunque come abbiamo fatto per Linkin Park Amy Winehouse Avril Lavigne Taylor Swift ci piace capire che cosa piaceva degli Evan Essence perché degli Evan Essence perché loro sono arrivati al successo che in realtà non è stato immediato perché loro già erano una band da dieci anni da quanti o meno dieci anni da quando sono diventati famosi noi li abbiamo visti come se il tempo di scrivere una canzone già erano diventati famosi in realtà loro stavano cercando già da prima erano tanti anni che suonavano però diciamo che quello che li ha portati al successo è un po' lo stesso discorso di Avril Lavigne non confrontando chiaramente i due generi musicali perché non c'entrano niente uno con l'altro però anche loro come Avril Lavigne hanno preso delle connotazioni di genere di nicchia e li hanno resi più commerciali quindi più vendibili poi alla massa quindi loro appunto hanno esordito come band del new metal che però poi del new metal avevano poco e niente e così come Avril Lavigne ha preso delle connotazioni del punk che le ha portate nel pop gli Evan Essence hanno preso delle connotazioni del metal e le hanno portate poi nel mondo commerciale nel mainstream a tutti noi partendo dal presupposto che ovviamente hanno fatto successo anche perché le loro canzoni sono bellissime cioè io penso che indipendentemente dal genere le loro canzoni sono obiettivamente belle cioè perlomeno la maggior parte non tutte però sono obiettivamente belle hanno dei tratti gotici un po' scuri anche con dei temi pesanti ma non eccessivamente cup e depresse gli Evan Essence per il metal non sono stati niente di nuovo perché c'erano come vi dicevo già band come ad esempio i Nightwish e gli Epica dove c'era sempre questa voce femminile un po' lirica vabbè il caso degli Epica era proprio lirica pura però un po' appunto un po' sul classico un po' sulla lirica in contrasto con quello che era il sound del metal c'era già però come vi dicevo prima erano dei generi di nicchia cioè al concerto degli Epica eravamo io e altri 200 stavo dicendo altri 200 cretini altri 200 fan capito non era una cosa così come il punk il punk vero non il punk pop il punk vero era un genere di nicchia loro hanno preso delle connotazioni sia a livello di vestuaio sia a livello di sound sia a livello anche di testi ma li hanno resi più li hanno personalizzati e li hanno resi più commerciali quindi loro hanno preso dei tratti metal li hanno mischiati al piano ai sintetizzatori vocali un po' come si faceva con il pop quindi hanno unito questi due mondi il che li ha resi accessibili a tutti Emily poi aveva una voce così potente che la rendeva riconoscibile è molto bella il che comunque a livello commerciale non guasta mai è una persona super carismatica i suoi testi erano riconoscibili concentrati su temi universali come le relazioni l'amore quindi in cui tutti si potevano identificare inoltre a livello di vestiario lei appunto aveva ripreso delle connotazioni del gotico con questi bustini questi vestiti neri questo trucco pesante e l'aveva fatto conoscere a chi del gotico non sapeva niente quindi tutto questo era una ventata di aria fresca non nel genere da cui aveva preso queste cose come il caso di Avril Lavigne Avril Lavigne non era nuova non è che ha inventato il punk Avril Lavigne però l'ha portato poi alla vista di tutti e tutto ciò che non era di nicchia la stessa cosa hanno fatto gli Evan Essence gli Evan Essence hanno portato quelli che erano le connotazioni basiche di alcuni generi del metal come il new metal l'epic metal chi più ne ha più ne metta il got tutto quanto e l'hanno portato a conoscenza di tutte le altre persone che invece erano più mainstream più commerciali inoltre come hanno detto diversi critici musicali di cui ho letto appunto un po' le valutazioni degli Evan Essence loro hanno si reso più commerciale il metal esattamente come gli altri gruppi che facevano parte del new metal eccetera però gli altri gruppi del new metal avevano prevalentemente delle voci maschili quindi c'era questa sorta c'era uno che ha detto proprio il testosterone a mille ma anche se non era testosterone a mille però c'era questa combattività anche sofferenza nei testi assolutamente però c'era questa combattività che tu ti sentivi una cazzo di new metal e volevi andare a sfasciare un'auto e invece lei te lo addolciva lei ti dava un altro punto di vista usava questo sound brutale però per parlarti anche di relazioni di sentimenti e quindi ha dato come una sorta di nuova sfumatura la cosa che l'ha resa ha reso gli Evan Essence veramente vendibili poi finito questo escurso fatemi chiaramente sapere se siete d'accordo io personalmente sono d'accordo cioè ho preso diciamo queste valutazioni da alcuni critici e siccome effettivamente ero d'accordo li ho riportati nel video però se avete altre considerazioni da fare ovviamente siete liberi di scrivermele sotto nei commenti poi c'è un altro aneddoto che io non sapevo praticamente all'inizio gli Evan Essence erano stati considerati come musica rock cristiana allora non so se lo sapete però in particolare negli Stati Uniti penso ancora ad oggi però all'epoca sicuro perché lo vedevo sempre nelle serie tv anche Modern Family li aveva nominati cioè era in contrapposizione a quello che era il genere musicale cioè non solo il genere musicale anche il cinema tutto quello che era il cinema e il genere musicale il mainstream occidentale si era creata una sorta di nicchia che però era molto grande in realtà negli Stati Uniti una sorta di nicchia in contrapposizione che era appunto la musica in questo caso la musica cristiana quindi si era creata in contrapposizione questo genere musicale che erano le band rock le band rock e metal cristiane che avevano dei testi in cui parlavano di fede di bibbia e vangelo e tutto quello che concernerà la religione e che succede siccome loro prima di diventare famosi quindi prima di mettersi in contratto con questa grande casa discografica loro chiaramente avevano suonato anche a degli eventi come mi sa che ve l'avevo detto prima a degli eventi organizzati dalle chiese poi i testi dell'Evanessence avevano anche questo tono un po' spirituale cioè loro non fanno mai totalmente riferimento a Dio chiunque sia però si parla di spiritualità si parla di una diciamo di una visione interiore e in più Emily aveva dichiarato di essere di fede cristiana quindi loro erano stati diciamo approvati dalla parte delle band cristiane e venivano considerati come band cristiane infatti nell'elenco delle band cristiane c'erano anche loro nonostante loro non si fossero mai presentati come band cristiane però avevano fatto anche delle collaborazioni con alcune di queste rock band o metal band cristiane quindi erano finiti in quel genere al punto che quando è uscito Fallen all'inizio in molte in molti negozi di cd loro il cd di Fallen veniva catalogato nella parte rock band cristiano e allora da una parte è convenuto all'inizio perché quello era un settore in realtà che come vi dicevo prima non era tanto di nicchia perché aveva un mercato grandissimo quindi a loro è convenuto sono diventati anche un po' famosi all'epoca nelle zone anche grazie a questa classificazione però è chiaro che poi una volta diventati famosi famosi come li abbiamo conosciuti nel 2002 nel 2003 è chiaro che loro volevano un po' staccarsi da questa connotazione perché testuali parole loro hanno rilasciato un'intervista dicendo noi non facciamo musica solo per i cristiani facciamo musica per tutti se piace a tutti noi siamo contenti però mi ha fatto ridere che insomma Emily è stata un po' più come dire un po' più tranquilla mentre Ben Moody che è appunto l'ex chitarrista che poi li ha lasciati durante un'intervista ho letto che ha detto proprio che cazzo ci facciamo noi lì riferendosi proprio al fatto che Fallen fosse in uno di questi scappali di musica cristiana però insomma loro non è che loro dicevano noi non siamo contrari né ad essere catalogati come band cristiana né come band normale però noi facciamo musica per tutti non vogliamo pregiudicare perché siamo catalogati come band cristiana ecco questo era un altro aneddoto simpatico che io non sapevo quindi poi Ben Moody lasciò la band come ho detto prima e ci furono delle incertezze per quanto riguarda gli Evanescence perché alla fine praticamente era rimasto anche il terzo membro e aveva lasciato la band quindi era rimasta Emily che continuava a girare intorno a degli altri artisti cioè gli Evanescence prendevano che ne so un chitarrista un batterista eccetera poi se ne andavano ne prendevano un altro quindi solitamente quando una band inizia a fare così sta prendendo la strada dello sciogliersi e chiudere tutto ma in realtà loro hanno ribaltato le carte perché non è stato assolutamente così Emily aveva un progetto chiaro come vi dicevo all'inizio e quindi è uscito il loro secondo album The Open Door bellissimo The Open Door che ha quella canzone oltre a Call Me When You're Sober che è molto carina molto bella ma lithium raga quanto è bella lithium adesso voi nei commenti mi scrivete da 1 a 10 quanto è bella lithium ora metti in pausa il video metti in pausa e scrivimelo sotto quindi l'album debuttò al numero 1 nella classifica billboard annientando ogni dubbio sul futuro della band e dimostrando che erano lì per restare nel 2008 però ci fu un'altra battuta di arresto perché praticamente la band continuava a non avere dei membri fissi continuavano a girare tutti questi cantanti musicisti quindi questo rendeva un po' instabile la situazione e infatti la band tardò 5 anni nella pubblicazione poi dell'album successivo questo perché perché Emily voleva provare a sperimentare un nuovo genere cioè lei voleva buttarsi un po' sull'elettronica voleva cercare di adattare il sound degli Evanescence a un contesto più elettronico fatto anche di musiche ambientali quindi provare questo nuovo genere ci sta la sperimentazione quindi lei ha detto io voglio ogni album che sforniamo deve essere fatto bene deve essere perfetto non voglio sfornare un qualcosa giusto per far contenti i fan perché come dicevo lei su questo punto di vista è irremovibile cioè lei vuole fare quello che le piace a costo di metterci tanto e far uscire meno album quindi lei inizia questo progetto sperimentale a cui partecipano diversi artisti che poi se ne vanno che poi ritornano quindi insomma la situazione si ritarda un po' volevano creare un qualcosa da come ho letto da una sua dichiarazione un po' stile Bjork mischiando e adattando suoni elettronici ad ambienti sound ad un certo punto Emily comunica che di questo progetto non se ne fa niente perché non stava venendo bene cioè lei ha detto non sta venendo bene non mi piace e quindi hanno deciso di tornare un po' a quelle che erano le origini e nel 2011 esce l'album Evanescence cioè proprio nome così classico con il suono classico degli Evanescence quindi hanno abbandonato l'idea di fare un po' di sperimentare diciamo dopo questo album la band annuncia un'altra pausa e quando annunci un'altra pausa sembra quasi che ti dicano ci stiamo sciogliendo non ci sperate quindi tenetevi quello che ci avete ciao anche perché lei aveva cominciato a fare anche delle apparizioni da sola in collaborazione eccetera quindi tutti pensavano che la band si fosse sciolta ma in realtà no in realtà no perché poi è tornata nel 2016 con il tour sempre dell'album come Evanescence e nel 2017 con una collection di tutti i loro brani anche quelli degli esordi poi tornano finalmente con un nuovo album l'anno dopo Scientist e il progetto diciamo questo album è una sorta di tutte di una raccolta di tutte le loro canzoni non tutte diciamo quelle che hanno avuto più successo però rivisitate ricoverizzate in chiave cinematografica cioè come se fossero delle colonne sonore di film perché alla fine se ci pensate Emily quello voleva fare all'inizio cioè lei voleva scrivere delle colonne sonore per i film infatti ho sentito qualche canzone bella però effettivamente sono proprio delle colonne sonore potenti alcune mi hanno fatto pensare proprio ai film di guerra non so perché andateveli ad ascoltare andatevi ad ascoltare questo album e fatemelo sapere ci sono state un paio di canzoni che ora non mi vengono in mente non me le sono scritte ma me le stavo sentendo mentre scrivevo il video e mi hanno dato proprio quelle immagini tipo di guerra la Steven Spielberg con lo sbarco in Normandia quelle cose potenti perché c'è proprio l'orchestra cioè si sente la sua impronta di musica classica quindi si sente l'influenza della musica classica che la musica classica ha avuto su Emily nel 2020 poi annuncia la pubblicazione di un nuovo album cioè The Bitter Truth e ora da come ho capito da come ho letto stanno stanno per rifare un tour non mi vorrei sbagliare ho letto questa informazione quindi fatemi sapere se c'è qualche tour in programma e quindi più o meno questa è la storia degli Evanescence è stata una storia un po' altalenante per quello ad un certo punto ci è sembrato un po' come Avril Lavigne che fossero un po' scomparsi per noi fan magari un po' più blandi ecco non per quelli accaniti ovviamente però per quelli un po' più blandi l'hanno visti come se a un certo punto anche loro sono scomparsi e non hanno fatto più niente in realtà sono ancora in attività cioè Emily con il suo progetto molto chiaro che vuole appunto continuare che vuole continuare a fare le tournee quindi insomma non è non è sparita in realtà solo che tutti questi anni di pausa come abbiamo visto poi con l'evoluzione ne abbiamo parlato anche nel video di Avril Lavigne con l'evoluzione del pop con l'evoluzione proprio in generale dell'industria musicale se non riesci magari a stare al passo e ti prendi lunghi periodi di pausa rischi di rimanere indietro perché l'industria musicale vuole spremerti fino all'osso quindi nel momento in cui tu ti fermi siamo abituati anche tra virgolette a una soglia di attenzione ai giorni d'oggi molto più bassa quindi se non mi fai uscire un qualcosa una cosa dopo l'altra che non hai la produttività a mille dopo un po' io perdo l'interesse questo purtroppo siamo diventati anche grazie ai social così quindi non è che voglio fare la critica sociale qui nel video di Avril Lavigne senza però penso che sia anche questo il fatto che sembrava che loro fossero spariti in realtà si si sono presi delle pause anche per sperimentare nuovi generi poi sono tornati un po' sui loro passi poi hanno fatto questo nuovo genere un po' colonna sonora quindi è per questo che c'era sembrata che fossero spariti bene abbiamo finito il video su Avril Lavigne senza è stato un bel tuffo nel passato noi ci vediamo dopodomani per un altro video quindi vi auguro un buon martedì ciao